Buonasera, bentrovati, un nuovo appuntamento con i giorni della chiesa. Mi sono vestita di rosso, perché la puntata pre-natalizia... E io come al solito la figura barbina, esatto, un borghese più che mai. Bentrovati, un nuovo appuntamento, siamo molto felici di questa puntata che diciamo subito è la bellezza della televisione che rende possibile che questa sera, venerdì, siano qui con noi delle persone che in realtà oggi sono già in Africa. È proprio così, infatti oggi il pulmino è ancora nel parcheggio perché invece del nostro solito mezzo di locomozione oggi abbiamo dovuto cambiare e prendere un aereo. Prendere direi almeno un paio di aerei perché andiamo in Africa grazie a due belle esperienze che tra poco racconteremo, grazie ai ragazzi e a uno dei capi scout della Riccione 1 che sono pronti, questa sera ma in realtà sono già partiti, con la destinazione Etiopia, la missione di padre Bernardo Cocce e poi le ragazze in questo caso a rappresentare tutto il gruppo della Villa Verucchio 1 che invece in partenza per Nairobi. Quindi con loro così, volevamo parlare anche di un Natale molto diverso perché per entrambi i gruppi davvero il giorno di Natale, il giorno della nascita di Gesù sarà vissuto in queste due particolari realtà missionari. Tra l'altro possiamo dire che siamo stati un po' campanilisti perché io da riccionese mi sono portata i riccionesi, tu da Villa Verucchiese ti sei portata. Non potevo essere da me, quindi mi sono fatto accompagnare. Allora andiamo subito a presentarli, diamo il buonasera e il bentrovato ad Alice, capo clan del Riccione 1, clan Uragano. Alice benvenuta, grazie di essere qui con noi. Al tuo fianco ci sono sempre del Riccione 1, Riccardo, ciao Riccardo, grazie di essere qui, Anna, benvenuta, ed Elia che torna in realtà, per lui non è la prima volta. E poi da Riccione ci spostiamo a Villa Verucchio, il clan in questo caso è il clan Tuareg e ci sono Chiara, benvenuta Chiara, e capo scout, capo clan anche lei, Eleonora. Grazie a ragazzi di essere qui con noi. Partiamo subito perché abbiamo tante cose da raccontare. Allora io partirei proprio dai due estremi del nostro studio, cioè da Alice e da Eleonora, per chiedere a loro un po' come vi è venuta quest'idea di trascorrere il Natale, ma soprattutto farlo trascorrere ai ragazzi dei vostri gruppi in missione. Alice? Ma diciamo che è un sogno che i ragazzi hanno già da diversi anni, noi come clan di Riccione avevamo vissuto questa esperienza circa sette anni fa con il mio clan. Tu eri in clan quella volta. Sì, sì, io ero in clan quindi per me insomma è un'esperienza che si ripete, per fortuna, e quindi nei ragazzi c'era questo desiderio di vedere con occhi diversi una realtà che comunque è molto diversa dalla nostra, ma che per certi aspetti ci potrà sicuramente dare molto. Ecco, per te che ci sei già andata, il ritorno cosa significa? È un'emozione forte, ritornare per poter vedere gli sviluppi che ci sono stati in questi sette anni e poi come si dice quando si va per la prima volta è vero che comunque c'è il mal d'Africa e ritornarci per me è un'emozione veramente grande. Da Riccione a Villa Veruca e Eleonora, come e quando è nato questo progetto Africa? Allora, noi abbiamo lavorato come comunità capi sul sogno e abbiamo cercato di trasferirlo ai ragazzi, ancora prima che cercassimo di farlo, il primo giorno di attività dell'anno scorso, i ragazzi appunto chiedendogli di sognare che cosa avrebbero voluto fare, hanno detto vogliamo andare in Africa, perché probabilmente come diceva anche Alice è un po' il sogno di quelli che sono i giovani. Abbiamo accolto questa sfida, era un po' inizialmente e appunto da un anno e mezzo ci stiamo lavorando per andare e portare i ragazzi in Africa. È la prima volta che la Villa Veruca si va verso il continente nero? Sì, come gruppo scout il Villa Veruca non era mai stato in Africa e diciamo che nella storia passata il clan è stato in Albania e a capo nord, ma è insomma in Africa e questa è la prima volta, sono contenta di essere il loro capo. Esatto, il fatto di poterli accompagnare e fare anche tu queste esperienze. Eleonora, tra l'altro ti vorrei chiedere anche come è arrivata poi la scelta di Nairobi, della realtà di padre Chizito, quindi di tutto il progetto Amani, che noi in realtà anche per legami interni al nostro gruppo conosciamo molto bene. Dunque noi abbiamo cercato di dare un paio di alternative ai ragazzi, abbiamo chiamato due capi scout della zona di Rimini, uno dei quali era stato a Nairobi e un altro in un altro villaggio africano, diciamo non propriamente in una missione. Assieme ai ragazzi abbiamo scelto Nairobi, la missione di padre Chizito, abbiamo conosciuto poi personaggi come Francesco Cavalli, insomma Diamani, sono venuti a fare degli incontri con noi e abbiamo appunto scelto Nairobi e abbiamo parlato con padre Chizito, siamo andati anche quando è venuto a Rimini lo scorso anno e ci siamo innamorati della sua missione e abbiamo scelto Nairobi. Padre Chizito è sicuramente un personaggio noto a livello nazionale e internazionale, invece i riccionesi hanno scelto una missione più vicina a noi tutto sommato perché padre Bernardo Coccia è un personaggio, sicuramente lo è per quanto riguarda Rimini, la nostra provincia da tantissimi anni in Africa e ormai ha fatto adottare a distanza tantissime persone, moltissimi conoscono davvero la sua opera. Elia, voi invece perché vi siete agganciati a padre Bernardo? Come è stato questo contatto e come l'avete sviluppato? Ma in realtà è nato tutto dal fatto che c'eravamo già stati, quindi riprendere le fila di un discorso che avevamo iniziato già con il clan dell'Alice, quindi sembrava più spontaneo ritornare in un posto in cui avevamo già messo delle radici, avevamo già fatto qualcosa. Poi certo è vero che padre Bernardo è un padre riminese, quindi ha aperto questo progetto che si chiama proprio Centro Romagna perché viene da qui e quindi un po' così, ritrovare le nostre radici in un territorio come quello dell'Etiopia che è molto lontano. Lo diceva Eleonora, un progetto di questo tipo parte con tanti mesi d'anticipo. Riccardo, quando un anno fa, perché se non ricordo male c'era la neve, era vicino a Natale anche in quel caso, in una riunione è nata questa prima intuizione che poi è diventata qualcosa di molto concreto. Ci pensavi che sarebbe stato poi così vicino al momento della partenza, che ce l'avreste davvero fatta a realizzare questo sogno? Diciamo che al momento della decisione, della presa di decisione, del fatto di porci come obiettivo l'Africa, era per tutti un po' un miraggio molto lontano, che poi si è avvicinato di fatto a passi da gigante perché sembra ieri che eravamo in sede a decidere a votare dove potevamo andare in quanti pensavano che l'Africa fosse il momento giusto per il clan di fare un'esperienza come quella dell'Africa. Invece poi tutti i progetti che si sono susseguiti ci siamo attivati più o meno rapidamente per fare tante cose tra di noi coinvolgendo comunque anche la cittadinanza ed è stata una cosa molto veloce in generale. Anna, tu tra l'altro esperienze in Africa le hai già avute perché proprio sei stata laddove stanno andando e Leonora è chiara perché sei stata da padre Chizito. Quindi un ritorno all'Africa in modo diverso, ma da dove si inizia a prepararsi Anna per partire per l'Africa? Io credo che prima di tutto ci debba essere una preparazione che riguarda il motivo per cui si va. Nel senso che ognuno è stato chiamato nel clan a riflettere su quello che lo spingeva ad andare in Africa e le ragioni sono le più diverse. Cioè per ognuno questo viaggio significherà qualcosa di diverso e quindi secondo me quello è il passo più difficile, il più importante. E poi una preparazione a livello emotivo secondo me, nel senso che comunque l'impatto emotivo è forte quando si vivono certe situazioni, si incontrano certe persone. Per cui anche un sapere che magari non saremo all'altezza di certe situazioni e comunque imparare un po' a gestire quello che può essere la propria risposta emotiva. Secondo me questo è importante. Anche perché ricordiamo lì c'è stata un'adesione di massa a queste iniziative, in quanti partite? Partiremo in 50, un bel numero, motivo per cui abbiamo anche scelto la missione di Padre Bernardo perché è una delle più grandi che ci può ospitare in Etiopia. Sarà una bella infusione di energia al vostro livello. Voi invece partite in quanti? In 13, noi siamo un po' meno. Anche perché il cane è un po' più piccolo. Esatto, il cane sicuramente ha numeri diversi da quello del Riccione. Siamo stati contenti, solo una ragazza purtroppo non riesce a venire per motivi di lavoro e cercheremo appunto di portare nella nostra esperienza anche a chi rimane a casa. Paolo, questa è la parte di riminesi che vanno verso l'Africa, che partono e sono pronti a partire. Il nostro laboratorio di speranza oggi ci porta ad un pezzo di Africa che è venuta a Rimini perché raccontiamo, il nostro Loris lo fa, l'esperienza, la storia di accoglienza, di apertura, di famiglia davvero quella F grande di Giovanna Bisulli. Giovanna è una riminese, abita nella zona della Grotta Rossa, anche una vita non facile per alcuni aspetti a livello personale, proprio familiare, ma nel dolore anche la scoperta della bellezza dell'apertura. E davvero sono stati tante le persone, anche in arrivo dall'Africa, ospiti della casa di Giovanna. Allora noi sentiamo la sua storia nel nostro laboratorio di speranza con il nostro Loris. Per la nostra rubrica oggi siamo andati a trovare un'amica, Giovanna, che con il suo essere a servizio ha creato un laboratorio di amore e di accoglienza e quindi un laboratorio di speranza. Giovanna, raccontaci un pochino la storia della tua famiglia. Una famiglia semplice, una famiglia povera, eravamo parecchi fratelli, però il babbo è una persona abbastanza autorevole, ma che comunque ha trasmesso a tutti quanti noi una grande sicurezza. Parlava poco, ma viveva. Ho questo ricordo che già dalla mia famiglia, mi ricordo, c'era sempre un posto a tavola per uno che capitava, per un poveretto. Poi a 15, 14, 15 anni hai cominciato a farti delle domande e queste domande chiaramente avevano bisogno di risposta. Certo, ma io credo che a quell'età tutti quanti ce le poniamo, è un'età abbastanza così turbolenta, perché però io ho proprio questo ricordo forte. Cosa farò? Cosa ne sarà di me? Cosa farò da grande? Perché è quell'età che non dice niente. Dice tanto, dice niente. Però cosa farò io da grande? E non vedevo niente, capito? Non vedevo niente. Non riuscivo a... Avevo, ecco, una cosa che mi è rimasto tanto, è una grande ammirazione per i missionari. Sentivo parlare di questi missionari che partivano, che lasciavano tutto e tutti dai propri affetti, il benessere, capito? Per dedicarsi là, capito, verso i paesi più poveri. Ecco, quelle, guarda, le ritenevo veramente persone eccezionali, grandi, capito? Poi un giorno hai conosciuto Guerrino. Un giorno ho conosciuto Guerrino. Hai diventato tuo marito. Certo. Avete realizzato tanti progetti, avere dei figli. Normale, no? Normalissimo. Umanamente sì. Dopo sette anni, quando tu pensi, capito, di aver abbracciato il mondo, all'improvviso mio marito muore in un incidente stradale. Ma ti dirò di più, muore in che modo? Mentre stavo soccorrendo una persona che era stata investita da una macchina che non si è fermata. Avevo un bimbo di quattro anni ed ero in attesa di un bimbo di quattro mesi. Quindi ti dico già una cosa che tu lo senti dire, però non pensi mai che capite a te. Comunque all'improvviso veramente tutte le tue sicurezze diventano incertezze, paure, fatiche, capito? Giovanna, quando ti sei accorda che il Signore ti prendeva per mano? Io mi sono trovata con questo ricordo. E in mezzo ad una strada, in un bivio, cosa faccio? Perché sono momenti che è facilissimo perdersi. Continuo a portare avanti quello che già portavo avanti, il frequentare la parrocchia, portare avanti tutto il capitolo, o mi fermo. E qui il Signore mi ha preso per mano perché ho scelto la strada migliore, quello di continuare a fare quello che già facevo. E qui lo devo molto, molto, molto alla parrocchia. Poi l'altra cosa è stato che io, sapendo che avevo comunque dei figli da crescere, da educare, da elevare, non potevo permettermi il lusso di fermarmi. E allora le mie forze arrivavano dove potevano, hai capito? Perché erano circondate da fatiche. E quindi la cosa che chiedevo a tutti quelli che venivano qui, perché non servono le parole, credimi, in quei momenti. Io chiedevo la preghiera, pregate, pregate. Quello che potevo lo facevo io, ma in certi momenti avevo bisogno di preghiera. Ed era l'unica parola che tiravo fuori. Tu a 27 anni ti sei trovata vedova, con due figli. Com'è cambiata quindi la tua vita? La morte di mio marito è stata un'occasione che ha provocato in me una sensazione forte, capito? Lui è morto da buon samaritano. Quindi un qualcosa di forte che ha provocato in me quel bisogno di amare ancora di più, capito? Poi da parte mia mi sono trovata vedova, vedova a 27 anni, una parolona, capito? Quindi quello di portare avanti la mia realtà di vedova, costruire la chiesa da vedova, capito? Quindi non vedendola più come un oggetto di compassione, ma come un soggetto attivo all'interno della chiesa. Un passaggio fondamentale della tua vita è stato il 1986 quando a Canazzei, al Madonna delle Vette, hai conosciuto una persona. Sì, io. Questa persona ha cominciato a farti domande. Quella persona la conoscevo già da tempo, guarda, perché fa parte della mia parrocchia. Quindi però mi sono andata, dopo la morte di mio marito, con i miei figli a Madonna delle Vette. E un giorno è venuto su Don Oreste, era un campeggio del, oggi si direbbe, diversamente abili. Don Oreste arriva per qualche ora, come faceva per tutti i campeggi, veniva a trovare tutti quanti. Ed era molto preso dal fatto che erano arrivati quattro bimbi dall'Africa. E cercava famiglie per loro, quindi era abbastanza preoccupato, perché i bambini erano già arrivati. E comunque questo problema, hai capito, l'ha posto lì, ha detto, sto cercando una famiglia. Però un silenzio c'era, nessuno ha risposto. Poi com'era capace lui, perché per chi ha conosciuto Don Oreste, lui aveva una capacità che era unica. Unica, quella di cambiare tono, quando proprio il bisogno si faceva forte, quella di cambiare tono. E alzò questo timbro, alzò la voce e disse, ricordatevi. Quanti anni sono passati, 86, guarda, tanto, ma me lo ricordo come in questo momento. Ricordatevi bene che il Signore ha già scelto le famiglie per queste creature, ma manca solo la vostra risposta. Io, appena finita quella frase, qualcosa in me è cambiato. Perché la risposta che mi sono data dentro di me, ha detto, ma se fossi io una di quelle famiglie? Appena finito l'incontro sono corsa da lui. Ho detto, Don, ma se fossi io una di quelle famiglie per queste creature? Lui ha detto, guarda, pur nel bisogno, lui metteva sempre il Signore prima, capito? Maria, non mi ha detto subito sì, mi ha detto, è rimasto così, ha detto, guarda, vada subito in chiesa, in cappellina, vada davanti all'immagine della Madonna, preghi, poi ritorna. Questa era Don Oreste. Io ho fatto ciò che lui mi ha detto, ho pregato, ho chiamato i miei figli prima di ritornare da lui, ne ho parlato con loro, ma parlare con bambini a quell'età è facile, no? Perché è un'età molto favorevole. Sono ritornata da lui, abbiamo detto, uno lo accogliamo noi, e dal di lì è iniziata la nostra accoglienza con un bimbo importantissimo. Proprio il bimbo ideale per iniziare un'accoglienza, un bimbo senza gambe. Giovanna, quando ci si accorge che è giunto il momento di fare sul serio, di lasciare da parte un po' le scuse e cominciare ad essere veramente costruttori di pace? Ma, guarda, sembra una cosa talmente difficile, no, capirlo. Invece io ti dico, per me è stato facile, perché c'è un qualcosa dentro di te che comunque ti parla. Io credo, pensavo proprio questi giorni a Maria, Maria c'è stato l'angelo, no? Che si è posto davanti, gli ha detto, guarda, con tutto ciò, la fatica, che anche lei, capito, è rimasta turbata e via via. Però lui gliel'ha fatta vedere. Noi invece la dobbiamo scoprire, scavare dentro. Però dentro di noi c'è un qualcosa che ci parla, ci fa capire quando è arrivato il momento, perché comunque quando tu non hai più pace, quando tu senti e fai finta di non vedere, fai finta di non capire, ma che però è un far finta, ma invece tu di fatto lo vedi, tu vedi tutti, tu vedi il povero, tu lo senti dentro, tu hai il tormento. Ama il tuo prossimo come te stesso, insomma. Comunque c'è un qualcosa dentro che ti fa capire. Possiamo dire che sono state più di cento? Sì, ha superato, sì, sì, sì. Non mi piace dirlo, però, perché secondo me non è il numero che conta, hai capito? Sì, se ti fermi un attimino, dici, dai, attraverso questa piccola casa qualcosa si è fatto, no? Quindi, poi dopo, io guardo, sono partita con una premessa, che era questa, quella di volere il bene dei bambini, indipendentemente dalla fatica che poi avrai fatto, no? Questo non vuol dire che quando un bambino ti rimane, o una mamma, o un ragazzo, ti rimane qui per sette, otto mesi, un anno, alcuno anche tre anni, vengono a far parte della tua famiglia, fa quello che vuoi, perché altrimenti puoi andare a fare un giro, quindi ti entrano dentro. Quando partono, certo, una parte di me parte con loro, però, la cosa bella, sa anche, non avrai neanche un grazie, non li vedrai neanche più, perché comunque la maggior parte provengono da villaggi, capito? Però la cosa bella è che partono rinati. Giovanna, siamo in conclusione. Quale consiglio possiamo dare a quelle famiglie perennemente indecise, e anche a volte un po' insoddisfatte? Se noi aspettiamo di essere perfetti, di fare le cose per bene, di aspettare il momento giusto, il momento giusto non c'è mai. Non c'è il momento, perché non c'è lo spazio. Prima di tutto ti dico, guarda, per non scandalizzare nessuno, per non far star male nessuno, ti dico, l'accoglienza è anche un dono, ok? C'è chi non ce la farà mai ad accogliere. Con questo non vuol dire che sono meno bravi di altri, no, assolutamente. Ognuno ha il suo dono. I modi di amare sono tanti, ognuno trova il suo modo. E però, se anche non accoglie, può star vicino a chi accoglie, capito? Quindi, mi raccomando, c'è una cosa che io dico, io nella mia vita penso, dopo tanti bambini, tante mamme, tanti ragazzi, quante volte ho sbagliato, ma ho sbagliato tanto, credo, ma io ho paura di chi non sbaglia. E allora, apriamo il nostro cuore. Grazie, ti ringraziamo veramente tanto per questa tua bella esperienza, per la tua testimonianza. Ringraziamo Paolo e Lorenzo per il loro apporto tecnico e noi ci rivedremo alla prossima puntata. Bene, Chiara, voi... Una bella storia, è però quella di Giovanna, davvero. Però ci aiuta anche a ritornare un po' su quelli che sono i temi dei nostri ragazzi. Eh sì, anche perché Villa Verucchi ha lavorato sul sogno e uno di questi sogni si realizza proprio andando in Africa. Chiara, tu che cosa avrai nel tuo personalissimo zaino a livello di attese, di aspettative e chissà anche un po' di qualche curiosità? Allora, per me sarà un viaggio molto importante perché metterò, diciamo, un certo punto alla mia vita da scout, quindi prenderò la partenza che è un passo molto importante. Però ne abbiamo parlato molto con il clan di cosa aspettarci, cosa non aspettarci da questo viaggio e alla fine di comune accordo decidiamo di partire un po' con lo zaino vuoto per essere aperti a tutte le emozioni e le esperienze che ci si presenteranno davanti per accoglierle senza nessun tipo di filtro. Cioè, tra l'altro ricordiamo, perché chiaramente qui qualcuno la conoscenza del linguaggio scout lo sa, ma per la partenza per chi non vive il mondo dell'associazionismo è bene ricordarlo anche per chi ci sta guardando da casa è proprio il momento in cui termina l'esperienza da educato all'interno di un gruppo scout, da rover o da ascolta si arriva alla partenza e al momento della partenza anche per i ragazzi si pone la grande domanda percorso associativo o extra associativo? Cioè vuol dire rimanere nel gruppo anche come capo quindi entrare nella comunità capi oppure invece intraprendere sempre però con lo spirito di servizio che gli scout hanno un po' anche invidiata da più di uno. Ma io ho chiesto appunto ad Anna la prima cosa che si fa quando appunto si decide la partenza però bisogna che ce l'ho raccontiata un po' questo anno Elia perché insomma da dicembre scorso siamo arrivati a dicembre di quest'anno un anno lungo è stato un tour de force un tour de force, ecco raccontaci un po' in realtà comincia tutto con i soldi brutto da dirlo però questo periodo direi quando chiedevi a Ricky questa cosa del non ti rendi conto che vai giù la prima cosa che ci siamo detti era andiamo giù se troviamo i soldi perché è comunque un viaggio che costa e quindi tanto autofinanziamento dall'anno scorso che facciamo autofinanziamento eccetera però il momento più bello penso sia stato quando ci siamo cominciati a chiedere con che animo andiamo giù e quindi dopo l'estate con il nuovo anno abbiamo cominciato a lavorare su noi stessi e abbiamo iniziato a dire vado giù perché, vado giù con quale spirito e comunque siamo giunti alla stessa conclusione andiamo giù con lo zaino vuoto come delle spugne ci hanno detto il gruppo che ci ha aiutato il gruppo Africa di Bellaria certo di andare giù come delle spugne che assorbano tutto dobbiamo essere vuoti non dobbiamo portarci giù tutte le preoccupazioni che abbiamo da casa se no non risolvi niente invece vai giù vuoto e assorbi tutto quello che riesce anche perché uno scout sa benissimo quanto pesa uno zaino pieno e quindi forse averlo un po' più scarico aiuta a fare la strada con un po' più di leggerezza anche per voi Leonora c'è stato un periodo di preparazione e anche di confronto con l'aspetto economico voi siete stati, mentre loro hanno avuto qualche suggerimento dal gruppo Africa di Bellaria che ormai storicamente fanno missione ormai ogni anno in Africa voi siete stati incoraggiati invece dagli amici di Rimini sì 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 noi appunto abbiamo preso contatti sia con i capi scout che già erano stati sia con Amani abbiamo calcolato insomma più o meno una cifra a testa e noi come Erriccioni insomma è più di un anno che continuiamo a fare dell'autofinanziamento purtroppo tagliando dei momenti di attività con il clan però questo secondo il mio punto di vista è anche un bene nel senso che i ragazzi capiscono che per volere veramente un sogno bisogna lavorarci non solo dal punto di vista economico ma passo dopo passo a raggiungere quell'obiettivo se vuoi Eleonora c'è anche il grande tema dell'attesa che oggi un po' noi sottovalutiamo noi siamo proprio dei giorni che precedono il Natale oggi la nostra società ci un po' invita a dire voglio questa cosa me la prendo subito ecco preparare una cosa con un anno e mezzo di tempo che c'è dal momento in cui lei ha decisa quando la fai credo davvero che anche emotivamente, psicologicamente, spiritualmente visto che è anche molto importante il cammino spirituale fatto nella preparazione sia una cosa anche molto bella per i ragazzi sì esatto, è veramente secondo me sentito ormai il clan non parla altro che d'Africa e mi ricordo quando è entrato il noviziato è entrato diciamo strada facendo in clan ha detto noi da quando siamo qui insomma si parla di Africa e non vediamo l'ora di fare questa esperienza perché appunto è arrivato il momento di partire siamo pronti ecco Riccardo voi trascorrerete il giorno di Natale in Africa e anche il Capodanno due feste, indubbiamente la prima la festa centrale della luce la nascita di Gesù non vi ha frenato questo aspetto e anche da casa non avete qualche vocina vi ha suggerito ma come queste feste lontani da casa effettivamente sono solo per la mia famiglia le prime feste che non passeremo tutti insieme tutti e cinque in famiglia però diciamo che passare le feste comunque feste così importanti per la nostra tradizione per noi anche a livello personale in un posto così diverso penso sia comunque un motivo di entusiasmo ancora maggiore perché comunque puoi riuscire a capire anche comunque le tradizioni, culture anche diverse di posti molto lontani da noi e che hanno una cultura che ha la radice proprio profondamente diversa e questo penso sia un altro motivo ancora maggiore per essere felici di trascorrere feste lontano da casa guarda ho avuto un suggerimento so che anche a casa di Elia questa domanda è stata al centro di qualche discussione familiare so che insomma i tuoi genitori si sono interrogati insieme a te su questo viaggio non solo i miei penso sia stata una cosa generale nella fine sono 19 anni che passano Natale a casa e vuol dire qualcosa però come scrivevo nell'articolo c'è stato un... articolo sul ponte ma anche su News Rimini lo ricordiamo io non sapevo neanche dove sarà a finire no c'è stato comunque un movimento di adesione cioè mio babbo voleva mettersi nello zaino ce l'ha detto proprio sarebbe diventato un po' pesante eh? sì sì però però non rientra nella logica dello zaino vuoto esatto e sicuramente il loro affetto vi accompagna cioè credo che per i genitori per i nonni appunto in questo momento così speciale dell'anno non sia facile anche lasciarvi andare però nel momento in cui poi si aderisce vedono crescere in voi questo entusiasmo probabilmente un po' di loro e anche loro si sentiranno parte di questo Natale particolare che vivrete probabilmente anche per alcuni magari unico Anna sì diciamo che a livello familiare è un po' strano pensare poi per esempio per la mia famiglia pensare che comunque sia io che mio fratello non ci saremo è ancora più forte no? come appunto anche per Elia perché comunque mancano addirittura due persone che riempiono quel posto a tavola non so e quindi però sì cioè io ho riscontrato un forte appoggio nella mia famiglia anche per poi l'esperienza precedente che ho avuto in Africa è stata con loro e quindi diciamo anche una sana invidia da parte dei miei genitori sembrano prendere un po' la responsabilità esatto di quello che hanno segnato di questa tua passione esatto sì ti hanno portato qua insomma però è un appoggio è bello sapere che comunque i genitori a casa al giorno di Natale penseranno che tu stai vivendo qualcosa di fondamentale per la tua crescita e quindi che comunque è una cosa molto bella abbiamo parlato di Natale lo facciamo anche in modo artistico perché proprio i luoghi dello spirito abbiamo chiesto a Daniela proprio di accompagnarci alla bellezza del Natale anche con la bellezza dell'arte allora Daniele insieme alla storica dell'arte Michela Cesarini oggi ci accompagna a conoscere e sfido tutti veramente di sapere bene di che cosa rappresentano i pagliotti di Sant'Agostino siamo tornati a Rimini per l'ultima puntata del 2013 per questi appuntamenti con i luoghi dello spirito e siamo esattamente nella chiesa di Sant'Agostino una delle chiese più importanti della diocese di Rimini dopo naturalmente il Duomo e siamo qui proprio per parlare in occasione insomma proprio alle soglie del Santo Natale della Natività e questa abbiamo detto è una chiesa molto importante dal punto di vista artistico dove troviamo opere dal 300 fino all'800 o 900 quasi e oggi ci focalizziamo sul 700 abbiamo detto parlando della Natività partendo dai pagliotti e per parlare di questo abbiamo con noi un'amica Michela Cesarini storica dell'arte alla quale chiediamo proprio allora abbiamo detto la Natività e i pagliotti qui a Sant'Agostino sono numerosi i pagliotti e soprattutto uno in particolare sulla Natività sì i pagliotti innanzitutto già questo nome insomma credo che crei delle curiosità in chi ci ascolta il pagliotto è una struttura decorativa di un altare che può essere in vari materiali può essere in cuoio, in argento, in tessuto e noi oggi li vedremo in scagliola la chiesa di Sant'Agostino ne ha diversi sono stati eseguiti da una bottega di Verucchio dove operava tale Flamini e che ne ha eseguiti tantissimi sul nostro territorio ad esempio sono anche molto belli quelli di Mondaino qui nella chiesa di Sant'Agostino come in altri luoghi sono legati all'intitolazione della chiesa e noi ora osserveremo un altare che presenta la scena della Natività e lo vedremo sia nel pagliotto quindi nella parte bassa dell'altare che nella parte superiore proprio in questo pagliotto in scagliola la scagliola è formata da gesso e polveri di marmo con pigmenti colorati che poi vengono lavorati e danno l'impressione di essere marmo i pagliotti di questo tipo vengono definiti alla carpigiana perché sono stati inventati a Carpi in provincia di Modena e dicevo in questo specifico abbiamo al centro un elemento a cartella che presenta con dei dettagli davvero suggestivi e delicati la rappresentazione della Natività ovviamente abbiamo al centro Maria che guarda con sguardo amorevole il figlio nella mangiatoia abbiamo Giuseppe vicino a lei riconoscibile dal mantello giallo ma anche da un particolare proprio iconografico puntuale che è la verga fiorita e in questo caso addirittura tre piccoli fiori di colori diversi poi abbiamo ovviamente gli mancabili animali il bue e l'asinello e poi i pastori che omaggiano Gesù guardate la bellezza e la delicatezza con cui omaggiano proprio Gesù la madre che accompagna vicino a sé il bambino l'uomo più anziano che ha un bastone e si appoggia quello più giovane con la barba che quasi insomma si avvicina al bambino per baciarlo e poi ovviamente la capanna fatta con materiale povero la paglia che ne fa tetto e sopra un angelo e quindi proprio tutti gli elementi del nostro presepe attorno alla natività una decorazione molto bella possiamo dire anche tipica dei paliotti di questo periodo molto ricca anche qui molto delicate ci sono degli uccellini dei fiori delle foglie proprio ricche ma molto dolci molto delicate sì è davvero bello notare i particolari siamo in un mondo di immagini che ci bombardano continuamente ma non siamo magari a volte più in grado di osservare i particolari allora vale davvero la pena di guardare le varie essenze vegetali e floreali e poi questi bellissimi tralci di foglie d'accanto che sono un elemento tipico della decorazione infatti anche sopra per esempio abbiamo una cornice di legno che ha come sempre le foglie d'accanto e poi dicevo su alcuni di questi fiori o foglie si poggiano degli uccellini anch'essi rappresentati con un dettaglio straordinario lo vediamo proprio il piumaggio quindi questo ci fa dire come sul nostro territorio operavano anche nel settecento delle maestranze davvero di livello elevato sulla tela tu l'hai nominata proprio sopra il pagliotto sempre una natività con l'omaggio dei pastori il tutto arricchito in una cornice molto bella che riprende come anche hai detto il pagliotto sotto nelle decorazioni proprio sì purtroppo la tela non è più quella originale nell'ottocento è stata sostituita dalla famiglia Fanelli che aveva il giurisprattoronato dell'altare e quindi è una copia di un'opera di un'artista importante citato anche dalle guide locali che era Jacopo Palma il Giovane quindi un pittore veneto e allora proprio del linguaggio veneto vediamo il riverberarsi dei colori o anche l'imponenza di alcune figure guardate in questo caso la scena è divisa in due parti nella parte bassa abbiamo gli uomini comuni quelli legati alla terra quindi abbiamo il pastore che avanza verso la mangiatoia abbiamo gli altri seduti e poi soprattutto questa figura femminile di azzurro vestita di azzurro che fa proprio un punto di colore forte che con il suo cesso di mele quindi porta qualcosa a Gesù Bambino e sopra gli angeli importante perché c'è una figura che in genere non siamo abituati a vedere nel presepe cioè un santo vescovo e lui Agostino è il personaggio a cui non è precisamente intitolata la chiesa perché la chiesa nonostante sia detta di Sant'Agostino è intitolata invece a Giovanni Evangelista ma è collegato all'ordine che ha retto sempre questa chiesa cioè l'ordine degli Agostiniani quest'altare hai specificato prima è dedicato appunto alla Natività a Maria e non è così comune trovarlo nelle chiese riminesi sì infatti è uno dei pochi altari e vorrei ricordare un libro di Piaggioso Pasini scritto insieme a Padre Montorse pubblicato dal Ponte che proprio fa una raccolta di queste immagini che abbiamo nella docesi di Rimini che raccontano la Natività e se guardate vedrete che a Rimini c'è questa il pagliotto l'immagine sopra e poi c'è un affresco nella chiesa di Santa Rita e poi nella chiesa delle Grazie c'è un bel dipinto e basta insomma fa un po' strana questa cosa ma così è ci siamo spostati nell'altare maggiore per riprendere il discorso sempre dei pagliotti però su Sant'Agostino l'abbiamo visto prima la chiesa anche se non è dedicata a questo santo però è così chiamata da tutti anche non solo dai riminesi perché c'è questo pagliotto in scagliola sempre policroma che è stato restaurato da poco nel 2011 grazie anche all'intervento dei commercialisti di Rimini in cui è presente Sant'Agostino e la madre e Santa Monica sì infatti è stata una scoperta ritrovare al di sotto di un pagliotto in tessuto che ora è stato collocato in sacrestia questo pagliotto che si collega praticamente a tutta la decorazione della chiesa come dicevamo infatti questo è il pagliotto dell'altar maggiore quindi abbiamo all'interno di tre tondi figure importanti e principalmente quella di Sant'Agostino che in questo caso è vestito con il saio nero che è precipo proprio dell'ordine agostiniano anche qui abbiamo tutta una serie di elementi di foglie d'accanto e di fiori molto belli questi fiori rossi i garofani per esempio le foglie morbide e quindi l'intervento dei commercialisti sul suggerimento di Pier Giorgio Pasini è stato davvero un intervento importante perché ha permesso di mettere in luce questo pagliotto e di collegarlo a tutto il resto della decorazione della chiesa pagliotti che sono del Settecento e che si collegano quindi a un intervento importante avvenuto nella chiesa di Sant'Agostino che è manifestata in maniera principe diciamo dal soffitto bellissimo con maglie di stucco con al centro dei tondi un soffitto dovuto alla progettazione dei galli Bibiena che sono degli artisti importantissimi mentre qui nella parte dell'altare abbiamo invece la testimonianza più antica della chiesa ovvero gli affreschi di scuola rimise del Trecento quindi davvero un luogo da visitare anche dal punto di vista artistico oltre che devozionale questa chiesa e proprio da questa chiesa da Sant'Agostino così belle così da scoprire noi ci fermiamo anche per questo appuntamento non mancando Michela di fare gli auguri ai nostri ascoltatori si è sempre stata presente in tanti dei nostri appuntamenti quindi facciamo degli auguri per un sereno e santo Natale a tutti quanti e anche noi chiaramente facciamo gli auguri a Daniela e a Michela che davvero in queste settimane ci hanno accompagnato facendoci scoprire o riscoprire tanti luoghi di spirito veramente affascinanti tra l'altro posso anche ricordare che uno di questi pagliotti sarà proprio la copertina del ponte di Natale una parte di questo pagliotto che si può riscontrare nell'altare di sinistra di Sant'Agostino quindi la ritroverete oltre che dopo averla vista in video anche sul nostro settimanale e quindi un'occasione in più per spingerci magari ad andarla a visitare di persone vederli nei particolari una domanda vado un po' a scavare c'è stato mai un momento in questo anno in questo anno e mezzo in cui avete detto no non ce la facciamo Alice guardo te perché poi i capi magari anche nel momento delle difficoltà invece devono essere quelli che spingono e portano entusiasmo anche magari in momenti in cui si smonta un po' quella frenesia iniziale sì diciamo che è stato un anno molto molto intenso proprio come diceva prima Elia l'autofinanziamento che è stata la parte centrale per questo per questo viaggio è stato determinante ma al tempo stesso molto stancante soprattutto si è concentrato nell'estate per cui quest'estate c'è stato un momento in cui abbiamo detto tiriamo ancora però anche per i ragazzi stava iniziando a essere un momento in cui stringere perché comunque era stancante e proprio per questo settembre abbiamo un attimo ripreso le redini e abbiamo fatto appunto una serie di riunioni proprio sulla motivazione affinché insomma l'autofinanziamento non ci avesse spento un po' quella fiamma per questo sogno e beh questo è veramente molto molto importante perché alle volte appunto si ha bisogno di di stringere però poi è anche importante rimotivarsi ma che cose bizzarre avete fatto perché per autofinanziamento normalmente si fanno cose veramente particolari Riccardo allora siamo partiti organizzati cioè animanni in compleanni da destra a sinistra sopra e sotto ovunque c'è compleanni che ogni compleanno a cui ci giungeva ci giungeva voce noi puntavamo ad esserci e poi abbiamo organizzato ad esempio un torneo di calcetto abbiamo organizzato delle cene un contest per le band su Alcassello degli Agolanti a Riccione abbiamo organizzato un pranzo qualche settimana fa a Riccione un centro di buon vicinato abbiamo organizzato una festa per anche esprimere quello che ci spinge a fare questo viaggio abbiamo raccolto le offerte fuori dalle chiese abbiamo fatto poi dicono che i ragazzi non abbiano buona volontà e sono anche sicuro che Villa Verucchio non è stata davvero Chiara invece voi che cosa avete organizzato in tutto questo tempo? i budget che dovevano raccogliere sono probabilmente molto diversi quindi noi ci siamo concentrati su quello che sappiamo fare bene vendere le torte vendere le piantine poi siamo riusciti a prendere come servizio i pacchi di Natale alle Befana fuori dal Marco Pol in questo periodo insomma mi fanno faticare non poco quindi insomma avete anche voi speso tante energie siete riusciti non dico adesso non parliamo di cifre che è prosaico ma di abbattere il costo pro capito di quanta in modo percentuale diciamo così pro capito abbiamo su mille euro quattrocento quindi quasi un quaranta per cento beh non poco anche per voi loro la siete riusciti anche perché scusami se ti interrompo è sempre bello soprattutto quando si fa un'esperienza di tipo educativo permettere a tutti di poterla fare quindi anche chi magari si trova in maggiore difficoltà a coprire una cifra comunque di questi tempi per le nostre famiglie anche sì sì questo era il nostro diciamo punto fermo non avremmo permesso chi non poteva permettere solo appunto non avrebbe potuto partecipare e noi siamo riusciti ad abbattere diciamo su invece mille mille cento euro seicento euro abbiamo fatto pagare le famiglie attorno ai quattrocento euro insomma sì dobbiamo ringraziare anche la zona di Rimini noi ci eravamo dati un tetto insomma a cui arrivare più o meno ci siamo riusciti ringraziamo anche la manifestazione del Paganello perché abbiamo partecipato quello è stato un bel motivo di autofinanziamento duro ma insomma proficuo sì esatto proficuo qui abbiamo rappresentanti di una bella associazione del nostro territorio che è la Gesci lo dobbiamo ricordare e l'incontro con tante associazioni e aggregazione è stato un po' il light motive di questi due mesi per il nostro vescovo Francesco che dopo la lunga visita pastorale alle parrocchie lo ricordiamo anche questa settimana dopo 17 anni da che si era fatto una cosa simile è tornato a visitare come vescovo tutte le associazioni e i movimenti e le aggregazioni quest'oggi viviamo l'ultima puntata perché siamo arrivati alla conclusione con la messa tra l'altro che si è celebrata domenica scorsa in Duome allora vi proponiamo le visite del nostro vescovo all'istituto Santa Famiglia e poi a tutta la realtà vicina al mondo di azione cattolica in particolare l'azione cattolica il MEIC la FUCI e il MSAC quindi vediamo anche queste ultime visite pastorali oggi il vescovo incontra l'azione cattolica quale importanza per l'associazione questa visita è una visita che davvero arriva al cuore di quello che l'azione cattolica è l'azione cattolica è un'associazione che ha un legame speciale con la chiesa nasce proprio per questo per essere per servire all'animazione alla formazione dei laici e alla vita della chiesa al servizio ecclesiale quindi il vescovo rappresenta proprio questo il legame che l'azione cattolica ha con la chiesa tramite attraverso il suo vescovo ecco quale messaggio oggi l'azione cattolica dà al suo pastore e in questo modo anche alla diocesi io credo che l'azione cattolica di oggi del 2013 sia in particolare dedicata a questo nel suo servizio animare la vita dei laici animare nel senso di farla viverla farla vivere all'interno delle parrocchie nella società nella chiesa e nel mondo insomma e con un'attenzione una connotazione certamente speciale in questo tempo all'evangelizzazione un'attenzione speciale agli ambienti di vita alla formazione che per i laici può servire da spendere in quella che è la loro vita in tutti gli ambiti della loro vita tra i tanti aspetti importanti dell'azione cattolica c'è quello dell'educazione soprattutto per i ragazzi ecco la CR è un po' questa espressione sì grazie a Dio e alla chiesa la CR ha questo compito fra virgolette importante e allo stesso tempo affascinante del primo annuncio dai fanciulli la CR qualche anno che già dai 4-5 anni inizia il suo percorso fino all'età dei ragazzi fino ai 14 anni aiuta aiuta così questi pargoletti a crescere nella fede a trasmetterli e a far vivere loro i sacramenti dell'iniziazione cristiana e abbiamo vissuto nell'ultimo mese i ritiri di avvento il cammino di terza media che diciamo comprende tutta la fascia d'età che abbiamo appena detto e i ragazzi che più o meno hanno partecipato agli eventi sono circa 800 in tutto con più di 200 educatori che li hanno accompagnato una cosa che mi piace sottolineare è che gli educatori la fraternità degli educatori la gioia che questi ragazzi vivono invadono i ragazzi li inondano di questo entusiasmo ed è proprio bello sembra proprio che i ragazzi hanno voglia di vivere queste esperienze di conoscere meglio Gesù e di crescere con i loro coetanei oggi l'adulto ha sicuramente come momento più importante quello di coniugare la vita è la fede la fede e il Vangelo si deve incarnare nella vita di ognuno ed è una cosa al momento piuttosto complicata sia per la crisi che mette in difficoltà tutti i pensieri che le idee di fede che ogni persona ha sia per la lontananza che molte persone vivono proprio dal Vangelo ecco uno degli esercizi che chiamiamo esercizi di laicità nei nostri gruppi di formazione propongono proprio questa sintesi questa ricerca di sintesi fra fede e vita fra il messaggio del Vangelo e la vita stessa azione cattolica e famiglia un binomio perfetto sì l'azione cattolica è una famiglia di famiglie ed è per questo che da un po' di anni a livello nazionale adesso anche a livello diocesano c'è l'area famiglia e vita che non è un vero e proprio settore e quindi cerca di fare un pochettino di collante e sempre tenere presente all'associazione che deve essere vicina alle famiglie perché la crescita dei bambini dei giovani degli adulti avviene non solo nelle parrocchie durante gli incontri ma avviene anche durante la loro crescita nelle famiglie e nelle case perché i genitori sono i primi educatori dei figli e i figli educano spesso e volentieri anche i genitori e quindi la nostra attività come area famiglia e vita è eterogenea ci siamo occupati dei corsi per fidanzati non i corsi fidanzati prematrimoniali per quei fidanzati che pur non essendo ancora prossimi al matrimonio hanno deciso di interrogare la loro vocazione e hanno fatto un percorso che li mettesse in relazione con l'altra persona che avevano scelto e a loro volta con la loro stessa relazione La Fucci questa sera quale messaggio regala al suo vescovo? Beh che in ogni periodo della vita come quell'universitario di formazione e discernimento poi per una scelta futura il cristiano può testimoniare e può decidere di vivere la vita in maniera diversa con un più che soprattutto in questi tempi di crisi nei rapporti nelle relazioni di impoverimento a livello di incontro umano ecco sperimentarle sicuramente giova e aiuta proprio nella formazione della persona La figura del vescovo è una figura importantissima per noi per capire qual è il rapporto che c'è tra l'università e quello che noi viviamo nella nostra fede di tutti i giorni La Fucci è per gli universitari diciamo un'esperienza di formazione personale che va oltre lo studio che può risultare sterile in questi anni diciamo che aiuta la formazione della persona perché si trova contatto con altri ragazzi che magari condividono lo stesso percorso di studi dove si può giustamente confrontare e crescere in questa cosa lasciando lo spazio oltre che allo studio anche a un percorso che possiamo dire di stampo religioso anche se le tematiche che trattiamo vanno oltre a questo perché riguardano temi sociali di lavoro di futuro di prospettive e via dicendo cosa propone a livello educativo il MSAC il MSAC è proprio rivolto agli studenti la proposta missionaria dello studente che vive la cristianità a scuola noi siamo azione cattolica ricordiamocelo quindi siamo anche azione ed il MSAC vuole proprio concretizzare l'essere cattolici nella scuola quindi i ragazzi si impegnano cercano di informarsi sull'attualità ai temi sociali e ai temi politici e fanno informazione verso gli altri studenti perché la scuola non sia solo scaldare i banchi ma sia un'esperienza significativa e una crescita personale culturale a tutto tondo quale messaggio il MSAC questa sera vuole consegnare al suo vescovo il MSAC vuole dire al nostro vescovo che ci sono ancora tanti giovani in gamba che sanno impegnarsi sanno non essere superficiali e approfondire e hanno ancora sogni grandi per la loro vita e cercheranno di realizzarsi e si mettono ancora in gioco per il bene comune continuo la visita pastorale del vescovo Francesco questa sera incontrerà l'istituto Santa Famiglia in poche parole che cos'è? allora l'istituto Santa Famiglia è un istituto di vita secolare aggregato alla società San Paolo fa parte quindi della famiglia Paolina fondata dal Beato Giacomo Alberione il Beato Alberione quindi la sua beatificazione ricorre il 27 aprile del 2003 l'istituto quindi è formato da coppie che fanno un cammino con la professione dei Santi Voti che si svolge nell'arco di otto anni iniziando dal noviziato sono i primi due anni poi la prima professione ci sono i vari rinnovi fino ad arrivare alla professione perpetua diciamo che è una realtà nuova nella chiesa perché Don Alberione è morto il 26 novembre del 71 e quindi le prime coppie praticamente sono entrate nel momento in cui il fondatore moriva l'istituto si prefigge la santità di vita l'apostolato sia con i medici della comunicazione sociale sia con diciamo la conoscenza di altre famiglie l'aiuto presso famiglie in crisi e tutte queste cose insomma l'istituto si impegna su diversi fronti proprio per la famiglia anche la preparazione dei fidanzati al matrimonio noi desideriamo portare Cristo maestro via verità e vita a tutti e in particolare alle famiglie prima di tutto alla nostra ma tutte quelle che incontriamo che il Signore ci fa incontrare e questo lo vogliamo dire al nostro vescovo e con tutta la gioia che possiamo avere appunto nel poter dimostrare che siamo veramente tutti uniti intorno a lui penso di essere stata chiamata in questo istituto perché ho sempre pensato che la famiglia sia fondamentale e sia la base di ogni società e soprattutto di quella cristiana allora questa proposta di poter essere consacrata con mio marito e quindi di vivere una realtà della famiglia così profondamente così bella mi dà anche la gioia e la possibilità spero nel vivere il matrimonio in maniera realizzata di poter comunicare questa esperienza a chi mi incontra e a chi mi conosce non dicendo faccio parte della Santa Famiglia ma vivendo un'esperienza in profondità e con convinzione per poterla portare agli altri perché di questo siamo convintissimi cioè una famiglia sana è una gioia sia per chi la vive e sia per chi ne viene in contatto e allora le abbiamo conosciute quasi tutte queste realtà incontrate dal Vescovo speriamo sia stata anche una bella occasione per i nostri telespettatori davvero di rendersi conto della ricchezza della nostra diocesi dal punto di vista aggregativo dicevamo un'esperienza missionaria che chiaramente ha avuto anche l'aiuto di chi la missione quindi ricordiamo magari l'ufficio missionario ma anche altre realtà che della missione hanno fatto un po' la loro vocazione Alice so che ci tenevi proprio anche a ringraziare un aiuto importante che avete avuto sì esatto il centro missionario per noi è un punto molto saldo nella nostra città perché comunque ci permette di vivere l'esperienza missionaria pensiamo al campo lavoro esatto il campo lavoro comunque durante tutto l'anno i ragazzi hanno la possibilità di fare questa esperienza e comunque grazie anche al loro contributo abbiamo potuto abbattere ancora di più il costo insomma per questo viaggio prima lo accennavate il desiderio di andare col cuore aperto e anche un po' scarichi di cose per ricevere il più possibile avete anche in mente però dei progetti da realizzare cioè portate anche una progettualità con voi Elia sì top secret perché i capi non ci hanno avvisato di nulla lo chiamo Alice allora tanto quando vai in onda sono già partiti quindi ve l'avranno già detto esatto no diciamo che come progetti in questo momento padre Bernardo ne ha diversi l'idea è quella comunque di visitare le missioni e a seconda dell'esigenza che hanno di supportarli l'esperienza che faremo noi comunque sarà un'esperienza di alfabetizzazione per i bambini dei villaggi e poi per quello che possiamo insomma aiuteremo darete una mano beh in 50 anche se hanno bisogno di costruire qualcosa potrebbe essere una bella occasione Eleonora invece il vostro viaggio come sarà? il nostro viaggio sarà incentrato sull'incontro sull'accoglienza padre Chizito è la missione che insomma gestisce hanno proprio come mission quella di prendere i bambini di strada e portarli in questi centri di accoglienza noi daremo una mano con i ragazzi lavoreremo appunto sulle tematiche dell'incontro l'accoglienza non solo al prossimo perché è facile in Africa essere così aperti ma tornando a casa riportarci queste tematiche nel quotidiano Chiara sei pronta a incontrare le baraccopole gli slams i bambini di strada perché questa è la realtà un po' in cui opera padre Chizito ma penso che non ci sia un modo per prepararsi cioè penso che quando si arriva lì poi dopo messi di fronte all'evidenza allora si diventa pronti bisogna solo partire a questo punto pochissimo è Natale c'è una domenica la quarta domenica d'avvento che ci aiuta davvero visto che abbiamo parlato tanto di attesa in questa nostra puntata a prepararci nel modo migliore noi come tutte le settimane vi proponiamo il commento all'evangelo domenicale del nostro vescovo Francesco in sfamati dalla parola così fu generato Gesù Cristo sua madre Maria essendo promessa sposa di Giuseppe prima che andassero a vivere insieme si trovò incinta per opera dello Spirito Santo Giuseppe suo sposo poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente pensò di ripudiarla in segreto però mentre stava considerando queste cose ecco gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse Giuseppe figlio di Davide non temere di prendere con te Maria tua sposa infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta ecco la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio a lui sarà dato il nome di Emanuele che significa Dio con noi quando si destò dal sonno Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa cari amici in ascolto siamo ormai quasi arrivati al Natale è la meta del nostro cammino di avvento siamo alla quarta domenica quindi alla quarta tappa del nostro percorso verso il Natale del Signore che celebreremo tra qualche giorno oggi a dominare la scena del racconto evangelico è Giuseppe lo sposo di Maria questo uomo questo giovane che l'Evangelista definisce uomo giusto la sua e quella di Maria dovevano essere una tenera storia d'amore che però ha rischiato di diventare un brutto fattaccio di cronaca nera da mandare in pasto all'opinione pubblica perché siamo ancora nel fidanzamento e il fidanzamento era considerato secondo la legislazione ebraica del tempo un vero vincolo giuridico per cui la sua violazione era considerata adulterio e quindi punibile addirittura con la lapidazione della donna Giuseppe viene a sapere da un angelo ci dice l'Evangelista Matteo viene a sapere che Maria è incinta essendo promessa sposa di Giuseppe prima che andassero a vivere insieme si trovò incinta per opera dello Spirito Santo qui dobbiamo ricordare come una certa esegesi peraltro non del tutto prevalente in passato ricorreva all'ipotesi del sospetto Giuseppe sospetta di Maria però è innamorato di lei e dunque non vuole accusarla pubblicamente e pensa di ripudiarla in segreto in verità all'origine di questa decisione di questo orientamento di Giuseppe c'è non tanto un sospetto nei confronti di Maria e il sospetto purtroppo è nella mente di chi sospettava di Giuseppe ma all'origine di questo orientamento di Giuseppe c'è piuttosto l'amore per Maria Giuseppe accetta la spiegazione che Maria deve avergli dato con chi andava a condividere Maria quel suo segreto che quello che stava germogliando nel suo grembo era addirittura il figlio di Dio ed era opera dello Spirito Santo certamente ne avrà parlato con Maria e Maria allora deve avergli dato la sua spiegazione e Giuseppe non può non averla accorta dunque Giuseppe capisce che in quello che Maria sta vivendo e che sta prendendo forma nel suo grembo c'è Dio all'opera e Giuseppe da uomo giusto cioè davvero credente pensa di ritirarsi nell'ombra per non intralciare il piano di Dio perché a nessuno venisse in mente che quello poteva essere figlio suo in realtà proprio nel momento in cui Giuseppe sta per prendere questa decisione Dio interviene con le parole che l'angelo che gli appare in sogno gli rivolge Giuseppe figlio di Davide non temere di prendere con te Maria tua sposa infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo ella darà la luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù dunque Giuseppe ha una sua missione da compiere è una missione speciale quella di fare da padre adottivo potremmo dire di Gesù perché toccherà lui dargli il nome e quindi assicurare la sua discendenza legale la discendenza davidica di Gesù perché Giuseppe è della tribù di Davide dunque la storia di Giuseppe ci parla perché Giuseppe ci appare in questa pagina di Vangelo come figlio di Abramo cioè come discendente del padre dei credenti e Giuseppe appartiene a questa razza dei credenti potremmo dire allo stato puro dei credenti che hanno una fede fede una fede vera in effetti Giuseppe ci consegna tre messaggi ormai quasi arrivati noi al Natale il primo che credere significa lasciarsi sorprendere non tanto comprendere Dio perché se Dio diceva già Agostino poi ripreso da Tommaso d'Aquino se tu comprendi significa allora che non è più Dio dunque la parola giusta è mistero e mistero significa anche la gratuita sorpresa di Dio Dio ci sorprende con le sue meraviglie credere dunque significa affidarsi grazie a questo Dio misterioso che ha però sempre un disegno benevolo per noi e tutto quello che Egli predispone nella nostra vita è sempre nel segno dell'amore della benevolenza della grazia più gratuita e generosa ma Giuseppe ci consegna anche un altro messaggio cioè che la vita è mistero noi non possiamo autoprogrammarci non possiamo noi progettare il nostro futuro per filo e per segno la vita non è tanto progetto ma è vocazione ci dice Giuseppe e dunque è una libertà quella di Dio che ci chiama e ci chiama a libertà cioè a responsabilità a dare la nostra risposta a questa missione che Dio ci affida dunque la missione non è una sorta di autodestinazione ma è una obbedienza alla chiamata di Dio e Giuseppe è un lavoratore verrà un giorno commentava il beato Giovanni Paolo II in cui tu Giuseppe accarezzerai il tuo bambino con le mani ruvide di un operaio e da quando allora il Signore ha chiamato Giuseppe a cooperare la sua opera di salvezza per la nascita per la vita di questo piccolo bambino che è il figlio di Dio da quel giorno allora non solo il tornio dell'operaio ma anche il banco dello studente o la cattedra dell'insegnante o la corsia dell'ospedale o il desk del giornalista diventano i luoghi dell'appuntamento con Dio laddove Dio ci chiama a cooperare alla sua meravigliosa opera di salvezza perché perché questo è il Dio con noi ecco la Vergine concepirà e darà la luce un figlio a lui sarà dato il nome di Emanuele che significa Dio con noi Dio è con noi questo ha cambiato la storia dell'umanità questo può cambiare anche la nostra storia questa fede che Dio non ci ha buttati a caso nell'universo ma dopo averci dato la vita continua a crearci continua a salvarci e dunque è davvero il Dio con noi questo è appunto il Natale se noi crediamo veramente se nel prossimo Natale la nostra fede potrà fare un salto qualitativo diventare più pura più autentica più seria più concreta allora sarà davvero Natale Natale che noi ci auguriamo a vicenda che non sia solo un giorno perché ricordava Don Oreste o è Natale tutti i giorni o non è Natale mai buona domenica e già fin d'ora buon Natale sabato presenterà in città la sua storia di Natale 2013 l'asinello del presepe presso la libreria pagina alle ore 16.30 quindi sarà lì per una lettura di questa sua nuova storia natalizia per i bambini però che parla molto anche agli adulti anzi penso che farebbe bene anche agli scout una letta veloce alla storia perché anche lì si parla davvero di accoglienza di missione di un'apertura a 360 gradi quindi chi ancora non avesse avuto modo di poter visionare il libro e magari anche di poterlo ascoltare della viva voce del vescovo che poi firmerà sicuramente anche le copie sabato alle 16.30 libreria alla pagina abbiamo gli ultimi due minuti a questo punto le valigie gli zaini sono dentro l'aereo voi state salendo sulla scaletta il pensiero il pensiero la parola che vi portate vi custodite nel cuore in preparazione a quest'Africa che incontrerete Alice inizio da te ma direi curiosità e accoglienza Riccardo dare ricevere soprattutto ricevere soprattutto ricevere Anna per te per me cambiamento Elia io sono un copione e prendo quella dell'Alice curiosità e conoscenza uguale Chiara per me la parola eccoci perché siamo pronti a tutto quello che ci viene posto davanti questo è un estote parati che insomma te che parti è fondamentale Leonora mi ha rubato l'idea anche io avrei detto eccomi siamo qui insomma siamo pronti a dare ma soprattutto come dicevano forse sarà di più quello che riceviamo noi ragazzi vi auguriamo un bellissimo viaggio facciamo un regalo alle vostre famiglie perché questa puntata va in replica anche nei giorni insomma delle feste quindi i vostri genitori i vostri nonni comunque vi potranno avere un po' un po' con loro e d'obbligo dire buona strada insomma è qualcosa che vi auguriamo davvero di cuore e poi magari quando tornate venite a trovarci con qualche foto qualche immagine così racconteremo anche la vostra esperienza a posteriori grazie Alice grazie Riccardo grazie Anna grazie Elia grazie Chiara e grazie Eleonora noi Paolo in realtà i giorni della chiesa diciamo si fermano per un paio di settimane nella nostra tradizionale modalità però in realtà poi tornano perché abbiamo ancora tante altre cose anche in questo periodo di feste da proporvi facciamo gli auguri anche noi facciamo gli auguri lo facciamo anche da parte di tutti coloro che ci stanno aiutando a rendere questa trasmissione sempre più radicata nella nostra diocesi Paolo direi proprio che quest'anno sono tantissimi i collaboratori un po' li vedete anche in trasmissione come Loris e Daniela e poi tanti altri che ci aiutano dietro le quinte quindi anche da parte loro un grandissimo buon Natale a presto a presto